Allora ragazzi tutte queste informazioni che vi do, questi tutorial, queste spiegazioni sulle colle, sulle rilegature potete trovarle sulla rivista Il Mondo di Frog che trovate il link nel video, insomma nel post e niente oggi andiamo a parlare appunto di una problematica che molti mi chiedono, spesso lo fanno sulle colle, sulle colle della panini, perché si sente lo scricchiolio eccetera adesso ci concentreremo su un prodotto della panini, ripeto queste cose le diciamo sulla rivista andatevele a vedere, sono piccole cosine, però ripeto che non vogliono togliere niente a quello che è la lettura di un buon volume, serve giusto per chi anche colleziona questo prodotto c'è chi vuole il bel prodotto e vuole sapere, è interessato a queste cose, se sta spendendo i propri soldi per un'edizione dove poteva farne a meno, quindi trovate tutte queste anetodi all'interno della rivista ogni mese, almeno ogni mese quando riesco, ma cercherò di farla insomma mensile, quindi andiamo a vedere questo prodotto su una domanda che mi ha fatto un ragazzo da Telegram, ok? Allora vediamo se riesco a spiegare questa cosina che mi hanno chiesto su Telegram, no? La questione delle colle, le colle che si seccono, quelle più flessibili, allora la panini come vi dicevo, secondo me sta facendo delle prove in questi ultimi dieci anni, forse anche di più, per trovare una soluzione corretta, tralasciando tutte le polemiche del perché fa certe cose o perché utilizza certe colle, qua possiamo vedere un ultimo numero e un cartonato rilegato a filo con pochissime pagine, lì viene utilizzato una colla molto flessibile, questo è un ultimo numero, come potete vedere, no? Qualcuno mi dice che sente su volumi vecchi della panini dei rumori che sembrano proprio delle colle che si staccano, in realtà molte volte sono semplicemente colle che si sono seccate e quindi non sono più flessibili come una volta, quindi si crepano. Come potete vedere, se io apro questo numero, lo spossiamolo di qua, sentite che praticamente il rumore, c'è pochissimo rumore, vedete? A parte che ha battuto lì sul cosa della frutta, però quando giro le pagine sentite che non c'è il rumore, vedete? Sentite lo scrocchiolio, no? Vedete? Ok? Sentite, si sente solo lo sfogliare delle pagine, questo perché la colla è nuova e quindi è molto flessibile. Cosa succede? Se noi andiamo a recuperare dei numeri vecchi di questi, di qualche anno fa, sempre dello stesso prodotto, vi accorgete che già prendendolo sul dorso si sentono dei rumori come se la colla appunto si seccasse più che le pagine incollate. Vediamo di andare a prendere il primo numero, vediamo questo qua se lo fa, eh? Sentito? Sentito? Quel rumore? Sentite? Tic, tic. Quelle e molto probabilmente sono proprio le colle che si seccano e si crepano. Vedete questa crepatura che risulta qua in mezzo, no? Questa è la copertura, come vi dicevo, che copre questo volume, no? Rilegato a filo. E appunto su questo strato qua, vedete che si è seccata la colla, la colla seccandosi crepa anche la carta, ok? Sentite? Avete sentito quando ho aperto quel rumore proprio di crepatura, no? Di qualcosa che è secco? Sentite? L'ho preso dal dorso, avete sentito quel rumore? Sono proprio le colle, no? Che sono secche e diventano dure, ok? Avete sentito? Questo appunto succede perché si sono utilizzate delle colle che subito non hanno, sono molto flessibili, poi quando si seccano rischiano di creparsi. Fino a quando abbiamo questi volumi piccoli, diciamo così con poche pagine, rilegate, non è neanche un grosso problema. Il problema appunto, mi hanno fatto vedere delle foto, quando ci troviamo di fronte appunto davanti a dei volumi enormi, no? Questi onnibus giganti, vi faccio un esempio. Qualcuno si è lamentato su alcuni, tempo fa sulle copie di Blame, di Blame, e che appunto si crepavano, ma si sono crepate in modo molto molto rapido, ecco, non sono passati anni come adesso. Questo perché appunto probabilmente la Panini preferisce vendere subito il prodotto, sperando che non si stacchi e poi dopo uno o due anni si seccano e vi trovate questa colla proprio che si staccano, si frantuma. Andiamo a vedere, sentire l'ultima volta, il primo numero che sarà almeno di 4-5 anni fa per dirvi e anche questo numero, sentite, già se tocco il dorso, no? Si sente proprio la colla, il rumore della colla dura, no? Questa anche meno, forse perché l'ho aperto l'altro giorno, però sentite, no? Crap! Ecco, vedete? E qua ho tutti i volumi con la crepa, sentite? Questo rumore è proprio la colla all'interno che si sbricciola, ok? Su questi volumi così piccoli, così fini, diciamo, il problema insomma non è così grave, ecco. Sui volumi grossi, come mi hanno fatto notare, si nota subito, forse anche dopo qualche mese e lì il problema appunto sta nel fatto che quella colla on my secca non regge più il peso del volume, ok? Questo è l'ultimo numero, come potete vedere non c'è nessuna crepatura e non si sente, vedete, se io apro non si sente neanche il rumore della crepa, no? Scusate, della colla secca, proprio perché è un volume di un mese fa, insomma. Vedete, anche piegandolo così non vi dà nessun tipo di rumore, mentre già gli altri se li apri, sentite? Vabbè, comunque l'avete sentito. Sentite? Avete visto? di proprio questo rumore, a parte che proprio sono gripate, però, vedete? Queste appunto sono le colla. Grazie, l'esempio che vi ho fatto è un esempio indicativo, nel senso che comunque i ragazzi mi fanno vedere delle foto, a volte qualcuno gliele manda per informazioni, io in qualche modo cerco di dare una spiegazione sulle foto. Naturalmente, se ho il prodotto in mano, riesco a spiegarvelo meglio, ecco, come ho fatto nel video. Mi sono trovato, mi sono trovato a questo caso, no? Ne ho fatto caso anch'io su questo prodotto qua, che era appunto le Aquile di Roma, dove vi ho fatto vedere che a distanza di anni dal primo numero al numero 6, sono passati tantissimi anni, forse 6, anche 7 anni, 5, non mi ricordo, insomma, un po' di anni. Il volume cambia non tanto di qualità, ma appunto su alcuni prodotti importanti, come le colle sul dorso. Tenete presente che questi prodotti hanno dalla loro, naturalmente, la forza della rilegatura a filo, ma anche lì, rilegatura a filo non vuol dire che i volumi di queste dimensioni sono legati a filo, quindi siccome c'è il filo, non sono delicate. Anche quello ha delle problematiche, anzi, se i volumi sono più grandi, oltre a sfogliarli in modo non corretto, comunque non pratico, più pagine si mettono, più naturalmente la struttura, che è questa, il dorso, la spina dorsale di un libro, diventa debole, quindi anche se qua si sente lo scricchiolio, come vi ho fatto vedere, di questo primo numero rispetto all'ultimo, dove le colle sono ancora più elastiche e fresche, non sono secche, naturalmente reggerà nel tempo, proprio perché abbiamo un paio di fascioni rilegati, non abbiamo tutto questo peso, ok? Quindi, quindi niente, volevo precisare questa cosa, spero di avervi fatto capire, no? Un attimino, quello che è anche i prodotti utilizzati, ecco, quando mi chiedono, usano delle colle di merda, non è detto, come vi ho già detto, le colle nel tempo sono diventati sicuramente più deboli, ma perché appunto ci sono state delle direttive sul finire degli anni 90 sulla sicurezza, sulla salute, quindi sono meno inquinanti le colle, ma naturalmente hanno iniziato in qualche modo ad essere più deboli, meno forti, quindi dopo, diciamo così, il 2000 fino adesso, molte case editrici hanno cercato una soluzione che potesse soddisfare, soddisfare naturalmente anche non solo il lettore, no? Perché per quello c'è anche per il solo lettore c'è anche ormai il prodotto digitale, ma soprattutto appunto anche per i collezionisti, chi ha voglia di collezionare il cartaceo in libreria, naturalmente si ritrova, no? Che magari i prodotti degli anni 70-80 sono ancora lì belli incollati, mentre i prodotti più recenti si scollano dopo un paio di mesi, ecco. Non stiamo qua a criticare la Panini, per il momento non mi va di farla, quello che posso dire è che in alcune case editrici, anche la Panini, ho visto che con il tempo ha fatto varie sperimentazioni, a discapito magari del lettore che ha speso dei soldi su Omnibus, no? Queste sperimentazioni appunto gli sono servite per arrivare in qualche modo a una quadra sulla tenuta e far contento un pochino tutti, ecco, sia il lettore, il semplice lettore, che anche il collezionista. Tenete presente che in questo momento il cartaceo per le case editrici si dà maggiore importanza soprattutto a quell'edizione speciale dove se ne vendi 50 gli conviene che non venderne 5000 per dire, no? Dove il guadagno è simile, c'è meno lavoro, ci guadagni di più, ecco, però come come, insomma, pensano un po' tutti su quest'edizione, bisognerebbe avere maggior cura, ok? Quindi, 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 ecco, quando qualcuno mi dice ho speso dei soldi su Bers, ma le colle le fanno cacare, perché vedo che sbordano, roba del genere, ecco, su quella cosa, sul fatto che la colla sbordi dalle pagine, no? Di lato, bisogna vedere se è una sola copia, comunque comunque l'importante, ecco, l'importante è che la colla sia elastica, no? Vi dia quella sensazione di elasticità. In quest'ultimo periodo, ad esempio la Panini, sui prodotti più piccoli le colle sono molto, ma molto migliorate, ma ho visto anche da parte della J-pop un miglioramento. Ripeto, sempre, le colle sono fondamentali, ma naturalmente se riempiamo quella spina dorsale di pagine, puoi mettere qualsiasi colla, no? Ma il problema rimane. Anche qualcuno mi dice che nelle riparazioni mette l'attac, ecco, l'attac è la cosa peggiore di tutto, piuttosto usate della colla a caldo, primo perché non fa grossi danni, per dire, ma soprattutto perché è a base di silicone, nel senso che comunque altre colle, anche la colla stick, che vi faccio sempre vedere, è comunque molto elastica quando si secca, mentre la colla l'attac, no? E secca subito, immediatamente, quindi sicuramente va non solo a rovinare già subito la pagina, se fate tutto correttamente va a bagnarvi la pagina, poi la va a seccare immediatamente e comunque le pagine si staccheranno anche dopo un po', per il semplice motivo che le pagine non è che si staccano perché la colla non tiene, perché secca le pagine si sgretolano in quel punto là di incollaggio. Spero di essere chiaro e se non sono stato chiaro provate appunto a scaricare la nostra rivista, è una rivista gratuita per tutti, anche se non siete iscritti al canale Telegram, in molti, chi è iscritto già al nostro canale Telegram, in molti insomma chiedono all'amico, visto che sei nel gruppo, chiedi a Frogo se mi può risolvere questa cosa, questo mi fa molto piacere, quindi comunque la rivista è gratuita, potete scrivere anche dei commenti, e anche nei commenti qua sopra su YouTube, se avete dei dubbi ditemelo, così magari io posso anche portarvi la notizia, ecco quello che ne so, insomma. Vi ho già detto che ho un periodo molto impegnato, quindi quando avete delle domande, quando mi date l'input per preparare un bel video di chiarimento, benvenga. Ok ragazzi, ci vediamo alla prossima, ciao!